Presidente Sappa, prima di essere Presidente della provincia, lei è stato per tanti anni sindaco della città di Imperi e per tanti anni, questi anni, ha avuto a suo fianco Emilio Broccoletti. Accolgi il ricordo qual è? Io esprimo un profondo cordoglio e ricordo Emilio come uomo, come politico e come amministratore. Io l'ho conosciuto come uomo quando io non ero ancora in politica, lui era già impegnato per motivi professionali e l'ho sempre chiamato assessore, perché gli dicevo Emilio tu sei nato assessore, aveva il rapporto umano tale per cui si metteva sempre a disposizione degli altri, quindi l'aspetto umano di Emilio Broccoletti prevaleva su tutto il resto, lui amava il contatto con la gente, si sentiva contento quando era in mezzo ai suoi alpini, ai suoi amici di Senerchia, alla sua gente. Lo ricordo poi come amministratore, Emilio alle 5 di mattino era sul camion dell'Eco Imperia. L'Eco Imperia l'ha costruita, l'ha seguita, è un po' una sua creatura e direi che grazie a lui si è dato anche un'impronta manageriale a questa società e nel tempo ha fatto un egregio lavoro. Lui conosceva ogni particolare di questa società e ogni particolare della città d'Imperia perché amava profondamente questo ruolo. Per lui i temi ambientali erano cosa comune, si occupava di questi, ma aveva una sensibilità politica e il terzo aspetto che gli consentiva di spaziare su tutto. Lui era un socialista, proveniva dalle file dei socialisti, socialista riformista e aveva questa connotazione legato ai temi particolari del sociale. Emilio Brocoletti era sempre a fianco di coloro i quali avevano delle ragioni legittime da far valere. E quindi direi che manca a tutti, manca alla sua città, manca ai suoi amici e manca direi alle amministrazioni comunali, provinciali, perché era un riferimento. Quindi esprimendo il cordoglio, esprimendo il cordoglio di tutta una collettività che perde una parte di storia. Emilio Brocoletti ha rappresentato una parte di storia del nostro territorio.